Infariniamo i nostri gamberetti già sgusciati con l'aiuto di un sacchetto di plastica. Mettiamo all'interno due cucchiai di farina, i gamberetti ed agitiamo il sacchetto. In questo modo la farina si distribuisce uniformemente e senza eccesso. Li mettiamo in un piatto con due cucchiai di olio, uno ogni 250 g di gamberetti e mescoliamo. Possiamo utilizzare anche l'apposito spruzzino per l'olio, così da ungerli in maniera uniforme. Disponiamoli nella placca sulla griglia alta del Grand Chef e cuociamoli per 15 minuti a 235 gradi, fan alta, avendo cura di girarli a metà cottura. A fine cottura li possiamo servire con una buonissima salsa di yogurt e aneto. Laviamo l'aneto ed eliminiamo la parte più dura del gambo. Lo tritiamo finemente. In una ciotola mescoliamo yogurt bianco intero con l'aneto e un pizzico di sale. In una ciotola mescolare. Ed ecco pronta la nostra frittura di gamberetti. Un aperitivo semplice e gustosissimo che farà impazzire i vostri commensali. Grazie a tutti.